Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Dopo la precettazione da parte del governo è stato rinviato al 15 di dicembre lo sciopero nazionale dei trasporti inizialmente previsto per lunedì. 27 novembre saranno regolari quindi il servizio delle linee di ATAC e Roma TPL e le attività al pubblico di Roma Servizi per la mobilità. Le altre notizie nel pomeriggio di oggi, la manifestazione non una di meno in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È previsto un corteo dal Circo Massimo a San Giovanni. Aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni e su romamobilità.it